Ospedali di nuovo al collasso, terapie intensive quasi piene. Siamo in una situazione di progressiva saturazione legata a quello che appare il picco della cosiddetta terza ondata, nella quale le strutture ospedaliere riescono ancora a reggere, ma con estrema difficoltà. A parlare Gennaro Sosto, direttore generale dell'Asla Napoli 3 Sud. L'emergenza pandemica sta mettendo a dura prova il sistema ospedaliero dell'azienda sanitaria. Abbiamo ancora qualche posto covid libero nelle strutture specializzate, continua Sosto, ma registriamo molti accessi nei pronto soccorso di Castellammare di Stabia e Nola, non riuscendo a fare migrare con facilità le persone affette da covid presso le strutture specializzate. Per fronteggiare la nuova ondata, l'ipotesi è di ampliare ulteriormente l'hub di Bosco Tre Case, dove già sono stati superati 100 posti letto. Si cercano anche altre strutture, tenendo conto però della generale carenza di personale medico specializzato. In definitiva, conclude Sosto, possiamo dire di essere in una nuova situazione di faticoso equilibrio, nella speranza che a breve si possano avvertire gli effetti dell'introduzione della zona rossa, oltre all'auspicio che, come l'anno scorso ad aprile, possano calare gli accessi. Cresce la pressione anche sugli ospedali napoletani. Al Cotugno c'è un posto libero in terapia intensiva, mentre la subintensiva è piena e la degenza è al completo stabilmente. Con un nuovo ricovero, appena c'è una dimissione. Al Cardarelli ci sono 150 pazienti covid ricoverati, 16 che occupano tutti i posti in terapia intensiva e 103 ricoverati tra semi-intensiva e degenza ordinaria. Sensibile aumento anche all'ospedale del Mare, dove ci sono 11 ricoverati in terapia intensiva, sui 16 posti disponibili. Piena la terapia subintensiva, con gli otto letti occupati, è piena la degenza con tutti i 39 posti occupati. Al Loreto Mare ci sono 4 ricoverati in più in degenza e quindi i letti disponibili sono solo 5 sui 50 a disposizione, mentre tutti i 20 posti in subintensiva sono occupati. Al Covid Center San Giovanni Bosco ci sono 5 pazienti in più in degenza, con 36 posti occupati sui 40 disponibili, mentre in subintensiva i 6 posti letto sono pieni. I dati rispecchiano l'andamento dei contagi, con i positivi che restano alti e i sintomatici che aumentano sensibilmente. Oggi a Napoli sono 93 su 218 nuovi positivi, mentre in Campania i sintomatici sono 499 sui tamponi di ieri.